Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeonico, la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo, a seconda parte, la parte che va in onda dalle ore 19 alle ore 20. Allora, di cosa parliamo in questa trasmissione? Voi sapete che nelle trasmissioni passate della sera, quasi tutte le trasmissioni a cui ho partecipato negli ultimi tre mesi, vi ho parlato di vari aspetti del crogiolo dello Stragone. Vi ho parlato delle determinazioni, vi ho parlato della volontà, vi ho parlato di sospendere il dialogo interno e ve l'ho raccontato in tantissimi modi. Ogni trasmissione serale vi dicevo delle cose per cui era necessario riaffermare se stessi nella vita, manifestare la volontà, il principio di azione, cioè leggere le cose del mondo attraverso le azioni e non attraverso la forma e sospendere il dialogo interno, fermare il dialogo interno per riuscire a far affluire l'intuizione dalla parte profonda del cervello. Ve l'ho detto per mesi. Ebbene, tutto quello che vi ho detto per mesi e tutti e anche gli altri dibattiti, perché questi sono tre dei dodici dibattiti che abbiamo già fatto, abbiamo già fatto tutto il ciclo di diciannove dibattiti a Marostica, adesso li stiamo riprendendo, siamo arrivati a dodici, qui a Radio Gamma 5, con questo ciclo. Ebbene, tutti questi dibattiti hanno avuto un inizio, hanno avuto l'inizio nel 1997, quando noi da poco avevamo cominciato, qualche mese, avevamo cominciato le trasmissioni di magia, stragoneria e paganesimo su questa radio e le persone della radio ci dissero d'accordo, però adesso dici che cos'è la stragoneria. E in quel momento iniziai a elaborare il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone era un modo per rendere pubblico ciò che gli stregoni avevano come segreto. E un po' alla volta, naturalmente io dovevo farmi la cultura per riuscire a farmi capire sempre di più, un po' alla volta il crogiolo dello stregone ha preso forma e si è sempre più specializzato. Il problema grosso è che mentre io elaboravo il crogiolo dello stregone, la scienza trovava tutta una serie di mezzi con cui indagare le trasformazioni cerebrali. E mano a mano che venivano fuori le scoperte sia della catena del DNA, sia della struttura sinapsica, la struttura neuronale, i collegamenti cerebrali, siccome la scienza riusciva a capire che questi collegamenti cerebrali avvenivano, il crogiolo dello stregone veniva continuamente riaffermato in continuazione. Ebbene, per tutte quelle persone che hanno assistito ai dibattiti, io vi leggo un articolo, un articolo apparso su di Donna, che è un supplemento della Repubblica, ed è del 28 maggio 2005. 28 maggio 2005 si tratta praticamente di una ventina di giorni fa. L'articolo si intitola I trucchi della mente, ed è a firma di, vediamo se riesco a trovare chi lo ha scritto questo articolo, Marianne Szegedi-Mitzak, immagini di Annelisa Strouba, e probabilmente è la traduzione di un articolo straniero. Bene, qual è l'elemento centrale della stregoneria che vi ho raccontato in tutti questi anni, nei dieci anni che parlo per Radio Gamma 5? Che noi, facendo delle scelte, facendo delle azioni, modifichiamo noi stessi partendo da ciò che siamo. Cioè, vi ho raccontato fin dall'inizio che la contraddizione è vita. E non lo dico io, lo dicono alcuni filosofi di questo e dell'altro secolo. La contraddizione è vita, cioè la contrapposizione, la soluzione di relazioni modificano i soggetti che vengono in contatto in quelle relazioni. I soggetti che vengono in contatto nelle relazioni finiscono la relazione diversi da come erano i soggetti prima che la relazione iniziasse. Questo concetto, che è un concetto base della filosofia, viene ipotizzato e viene elevato anche al concetto della psicanalisi. Soltanto che la psicanalisi parte dal presupposto che l'uomo è. Per partire dal presupposto che l'uomo è, significa partire dal presupposto che l'uomo è, e fra virgolette questo concetto che l'uomo è deriva dal creato di magia e somiglianza del mio padrone pazzo e cretino. L'uomo è, questo è l'assunto della psicanalisi, della psicologia. In realtà l'uomo è divenuto, ma l'uomo è divenuto per scelte soggettive all'interno dell'oggettività in cui è nato e in cui ha manifestato se stesso. Allora, non è che l'uomo è, ma l'uomo è divenuto all'interno di un'oggettività. Questo uomo è divenuto all'interno di un'oggettività, che la psicanalisi e la psicologia trasforma in l'uomo è. E in stregoneria leggiamo l'altro aspetto, se l'uomo è divenuto, l'uomo può continuare a divenire scegliendo la direzione nella quale divenire. E qui, a quel paese la psicanalisi, entra in funzione la stregoneria. Cioè, la stregoneria risponde alla domanda, cosa io devo fare per continuare a divenire, a trasformarmi, a svilupparmi, partendo da ciò che sono e in base a ciò che il mondo è, nel quale io agisco? La stregoneria a questo dà delle risposte. La psicanalisi non dà delle risposte. Le neuroscienze e l'analisi dei cervelli ultimi che vengono fatte dimostrano che la stregoneria ha ragione. Cioè, la stregoneria dice, guarda che la maggior parte delle cose che tu fai nasce dalla percezione di tutta una serie di fenomeni che ti giungono nel mondo di cui tu non ne hai né coscienza né consapevolezza. Bene, le neuroscienze dicono, sì, è vero, ciò avviene. Allora dice la stregoneria, come faccio io, cioè si chiede alla stregoneria, come faccio io a portare alla consapevolezza tutte quelle cose che avvengono dentro di me e di cui io non ne sono cosciente? E a queste domande risponde la stregoneria, e risponde la stregoneria col crociolo dello stragone. Ma adesso a noi ci interessa un altro aspetto, ci interessa l'aspetto scientifico. L'aspetto scientifico non dice alle persone cosa debbono o non debbono fare. L'aspetto scientifico legge una situazione in essere, legge una realtà, legge delle risposte dei soggetti a degli stimoli che gli vengono dati. Cioè, la scienza legge e descrive una realtà e cerca di arrivare al profondo di quella realtà descrivendo sempre nuovi elementi. Naturalmente in ogni momento della scienza ciò che la scienza scopre è relativo ed è una base di sviluppo per nuove scoperte successive, nuove elaborazioni teoriche, nuovi sbugiardamenti, nuove riscoperte, nuove teorie. Per cui per la scienza tutto ciò che è oggi è dato sì come verità, ma una verità in modificazione continua. La modificazione continua della scienza non sarebbe altro che la ricerca della descrizione profonda delle cose. Dopodiché c'è sempre qualche imbecille che ti tira fuori la teoria di dieci anni fa, già sbugiardata, già fatta a pezzi, te la porta oggi e ti dice che la scienza sbaglia. La scienza non è una verità. La scienza è il tentativo di descrivere una realtà a mano a mano che questa realtà viene penetrata. Per cui non dobbiamo rivolgersi alla scienza come la verità, ma dobbiamo rivolgersi alla scienza come uno strumento di cui noi ci serviamo per tentare di capire la realtà fenomenologica. Questo è importante che noi la stabiliamo. La stregoneria, per contro, si rivolge verso il futuro. Cioè ti dice, data questa realtà soggettiva, data questa realtà oggettiva, quali sono le strategie che devo mettere in essere per riuscire a costruire il mio futuro? A questo risponde la stregoneria. A questo non può rispondere la scienza, perché la scienza deve avere un punto di riferimento. La scienza non è navigazione nel caos, nel buio, nello sconosciuto. La scienza è svelamento dello sconosciuto. Mentre invece la stregoneria è organizzazione del soggetto per navigare nello sconosciuto e poter trasformarsi e vivere in esso. Per cui mettiamo in chiaro questo. Bene, adesso noi invece ci leggiamo cosa ha scoperto la scienza. Si chiamano i trucchi della mente, questo articolo del 28 maggio apparso su di donna. Il giudizio affrettato. La canzone che ti risuona in testa ogni volta che chiudi la porta dell'ufficio. La voglia di bere una coca invece che una pepsi. O di guidare un'auto invece di un'altra. L'espressione sul volto di tua moglie che inspiegabilmente ti fa sentire innamorato o arrabbiato. E che dire dei motivi che ti hanno spinto a sposare proprio quella persona. E che oggi ti appaiono incomprensibili. Diamo il benvenuto alle prove che dimostrano come il nostro inconscio sia sempre al lavoro. Oggi, parecchio dopo Freud, disponiamo dei risultati di nuove esplorazioni delle profondità della nostra mente e del nostro cervello. Alimentate dalla potente tecnologia delle neuroimmagini. Le domande sul perché esprimiamo giudizi affrettati. Sul perché ci sentiamo a disagio senza un motivo evidente. Su ciò che ci spinge ad agire in un certo modo e su quello che ci procura soddisfazione. Trovano una risposta non nei ricordi di infanzia sul lettino. Ma analizzando i neuroni che agiscono in certe zone del nostro cervello. Zone del cervello alle quali non abbiamo mai dato il giusto peso comunicano con altre zone. Facendo scattare i neurotrasmettitori e guidando le nostre azioni. Ed è talmente affascinante per il pubblico la neuroscienza che Blink the power of thinking with or thinking, esplorazione del pensare senza pensare, del giornalista Malcolm Gladwell, è rimasto in testa le classifiche dei best sellers per settimane. Spiega Clinton Kiltz, professore del dipartimento di psichiatria e scienze comportamentali di Amory. Non c'è nulla di quello che facciamo. Nessun pensiero. Non c'è nulla all'interno della nostra vita quotidiana che non abbia un codice neuroneurale. La nostra più grande sfida consiste nello scoprire come impostare lo studio che riuscirà a svelare questi codici. La consapevolezza che le nostre azioni potrebbero non essere il semplice risultato dei nostri ragionamenti rischia di scuotere la nostra fede in valori come il libero arbitrio o il senso di responsabilità. Non saremo mai in grado di controllare il ritmo del nostro battito cardiaco o la coreografia del nostro sistema limbico. Però Gladwell, nel suo fortunato Blink, scrive che anche i nostri giudizi affrettati e le prime impressioni possono essere educati e controllati per capire noi stessi e il nostro comportamento necessario riconoscere che un semplice battito di palpebre può avere lo stesso valore di mesi di analisi razionale. Secondo i neuroscienziati siamo consapevoli solo del 5% della nostra attività cognitiva ed è per questo che la maggior parte delle nostre decisioni, azioni, emozioni, comportamenti dipende per il 95% dall'attività cerebrale che va al di là della nostra coscienza. Dal battito cardiaco alla gincana del carrello della spesa per scansare gli ostacoli per qualsiasi azione dipendiamo da quello che viene definito inconscio adattativo e in pratica tutti i modi con cui il nostro cervello percepisce il mondo che la mente e il corpo devono poi negoziare. L'inconscio adattativo ci permette, per esempio, di compiere una curva in auto senza dover effettuare complicati calcoli per determinare l'angolazione esatta della svolta, la velocità dell'auto e il raggio starzante della ruote. E' anche quello che ci permette di comprendere l'esatto significato di un'affermazione come le prostitute si rivolgono al Papa senza pensare a una vita dissoluta del sommo pontefice. Pensieri consumistici Gerald Zaltman usa esempi di questo tipo in molte delle sue conferenze. E' un emerito professore di Howard Business School, ma usa i procedimenti di un neuroscienziato. E' anche uno dei soci fondatori della Olmson Zaltman Associates, società di consulenza per le aziende che vogliono avere una conoscenza più approfondita delle menti dei consumatori. Come professore di marketing, Zaltman è ovviamente molto interessato a stabilire che cosa spinge le persone a comprare una cosa piuttosto che un'altra. Cercando di sondare la mente dei consumatori, Zaltman si è chiesto se non ci fosse un modo per andare oltre i focus group, spesso poco attendibili, per cogliere i desideri più autentici liberi da altri rumori di fondo, in modo da portare a vendite più consistenti e ad azioni di marketing più efficaci. La sua soluzione è diventata il brevetto USNO 5.436.830, conosciuto anche come Zaltman Metaphore Elicitation Technique, tecnica della scoperta della metafora di Zaltman. Che recita il brevetto consiste in una tecnica per scoprire i costrutti interconnessi che influenzano il pensiero e il comportamento. Dai biglietti di auguri alle commedie di Broadway, agli snack al design per il nuovo ospedale pediatrico di Pittsburgh, la ZMET è stata utilizzata per scoprire come inviare un messaggio al quale i consumatori rispondano con quell'importante 95% del loro cervello che determina molte delle scelte. In che modo? Mediante l'accesso alle metafore profonde che le persone, anche senza saperlo, associano a un particolare prodotto, ma anche a una sensazione o a un luogo. Il linguaggio è limitato, sostiene Zaltman, e non può essere confuso con il pensiero. Le immagini si avvicinano un po' di più all'obiettivo di catturare i frammenti delle ricerche e contraddittorie aree di sensazioni inconsce. I partecipanti agli studi di Zaltman vengono quindi invitati a ritagliare immagini che rappresentano i loro pensieri e le loro sensazioni su un particolare argomento, anche se non sanno spiegare il perché. Zaltman ha scoperto che facendolo le persone scoprono spesso una metafora profonda e fondamentale, al tempo stesso radicata in un'ambientazione unica. Grazie al suo lavoro, in giro per il mondo, Zaltman si è convinto che il menu di queste metafore inconsce sia limitato e al tempo stesso universale, esattamente come le emozioni umane. Fra parentesi Francesco li chiamerebbe gli archetipi delle persone. E che le metafore più grandiose hanno un'applicazione pratica? Lo studio di architettura a Storino e l'azienda di design Favom, per esempio, hanno chiesto l'aiuto di Zaltman per progettare un nuovo ospedale pediatrico che rendesse più piacevole un'esperienza comunque difficile per i piccoli pazienti, i loro genitori e il personale che vi lavora. Con la classica tecnica smetta, i bambini, i genitori e i membri della staffa hanno ritagliato immagini che in qualche modo associavano all'ospedale e le hanno poi discusse per quasi due ore. Scandagliando pensieri, sensazioni e associazioni che ne derivavano, nel corso delle conversazioni è emerso un flusso di metafore. Una bambina ha ritagliato l'immagine di un cagnorino dall'aria triste che ha poi dipinto in blu. Perché mi sembra triste? Come mi sento io quando devo stare nell'unità di cura intensiva e non posso uscire dalla mia camera. Fatto questo, le immagini sono state scandalizzate e un altro intervistatore si è seduto accanto al genitore o al bambino o all'infermiere per realizzare il computer un collage, una sorta di personale test di Rochers, con le immagini scelte. L'istantanea dell'associazione inconsce è stata infine ampliata aggiungendo parti narrative di carattere personale. Dall'analisi di questo materiale sono emersi alcuni temi fondamentali. Nel caso dell'ospedale pediatrico, spiega Cristina Antorino del Sole, della Favon, la metafora principale riguardava la trasformazione, mentre le metafore complementari erano su controllo, collegamento ed energia. Come si traduce tutto questo in design dell'ambiente? Quando i pazienti e i loro familiari entreranno nel nuovo ospedale che verrà completato nel 2008, si troveranno secondati da immagini farfalle, il massimo simbolo della trasformazione. Le stanze dei pazienti ricorderanno molto quelle di casa e i bambini potranno esercitare un controllo maggiore sui propri spazi personali. Un enorme giardino che incarnerà il concetto di trasformazione, ma anche quello di energia. E quel legamento sarà visibile a tutte le camere e a disposizione di bambini e delle loro famiglie. Prima il design era un po' un terno all'otto, la azzeccavi oppure no, spiegala del sole. Ora invece sappiamo che a livello più profondo questo ospedale deve essere incentrato sul concetto di trasformazione. E così quando un bambino malato, un genitore preoccupato o un'infermiera stanca entra in un ospedale pediatrico, a livello inconscio risuonerà la profonda e rassicurante consapevolezza del potenziale bellezza della trasformazione. Zartman ovviamente non è l'unico a insinuarsi nella mente del consumatore. Nei test di degustazione alla cieca di stampo neuroscientifico, Coca e Pepsi si sono misurate tra loro segnando di fatto un pareggio. In blink Gladwell spiega che la Coca-Cola abbia commesso un grave errore usando i dati ottenuti da un primo test nel quale il prodotto concorrente risultava più gradito la maggior parte dei consumatori per modificare la ricetta e creare quel disastro di marketing chiamato New Coke. Eppure, nonostante il gusto riscuotesse minori preferenze, la Coca-Cola tradizionale rimane la numero uno fra le bibite del mondo. Ricerche più recenti pubblicate dopo il libro di Gladwell, era già stato completato, possono aiutarci a capire perché? I ricercatori di Bailor College of Medicine hanno nuovamente chiesto a 67 consumatori di Coca-Cola e Pepsi di scegliere la bibita preferita in una degustazione alla cieca e la scelta è di nuovo accaduta sulla Pepsi. Se però si mostrava loro il logo dell'azienda, prima di bere tre consumatori su quattro passavano a preferire la Coca. I ricercatori hanno analizzato il cervello dei partecipanti durante il test e hanno scoperto che l'etichetta Coca-Cola determinava una grande attività nella parte associata ai ricordi e all'immagine di sé, mentre la Pepsi, pur piacendo di più alla maggior parte dei consumatori, non sollecitava molto questi centri cerebrali preposti al benessere. Lo scorso ottobre, quando è stato pubblicato lo studio in questione, Reed Muntag, direttore del laboratorio Brown Foundation Human Neuromarking di Bailor, ha fornito una spiegazione. L'etichetta della Coca-Cola produce un enorme effetto sull'attività cerebrale relativa al controllo delle azioni, alla capacità di riportare alle memorie i ricordi e le immagini di sé. La semplice e celebre immagine rossa e bianca riesce a sviluppare l'ipocampo e la corteccia prefrontale, dorso laterale. Il punto focale, spiega Muntag, è che esiste una risposta del cervello che porta un effetto comportamentale e curiosamente non ha nulla a che vedere con le preferenze consapevoli. Dopo vi dirò cosa il cristianesimo fa nel cervello degli uomini. Profumo di inconscio. Arriva un cane e iniziano ad annusarti. Se si ricorda il te e gli stai simpatico, agita la coda, magari ti lecca persino la mano, in caso contrario potrebbe evitarti. Potrebbe associarti a del cibo o a una pedata. A tutte queste immagini, tutte queste associazioni vengono rievocate grazie a una semplice annusata. A parte l'inibizione di fondo che ci impedisce di avvicinarci a qualcuno per annusarlo, l'uomo non è poi tanto diverso dal suo miglior amico. Un odore non è semplicemente un nome, rappresenta un intero contesto, spiega Dolores Malaspina, psichiatra presso il New York State Psychiatric Institute e il Columbia Universe Medical Center. Le informazioni olfattive sono privilegiate, prosegue Dolores Malaspina, perché l'olfatto è l'unico di nostri cinque sensi a non effettuare una breve sosta nella stazione di cambio del cervello e il talamo prima di proseguire verso la corteccia prefrontale. L'olfatto non viene mediato, non viene filtrato e colpisce la corteccia prefrontale con un'intensità molto violenta. I ricercatori hanno scoperto che l'odore svolge un ruolo importantissimo nella scelta del partner, anche se non ce ne rendiamo conto. Quando le donne che lavorano in uno stesso ufficio sincronizzano i propri cicli mestuali, accade perché l'inconscia percezione dell'odore scatena il sistema endocrino. I nostri cervelli, prosegue Dottoressa Malaspina, a cominciare dallo sviluppo fetale, vengono predisposti per dare la precedenza alle percezioni olfattive. Ma che cosa succede se le percezioni olfattive non funzionassero correttamente? La Dottoressa Malaspina e altri ricercatori hanno esaminato il senso dell'olfatto in caso di disturbi emotivi e sono giunti a risultati interessanti. Mentre la schizofrenia viene generalmente considerata come il disturbo delle allucinazioni, di fatto uno dei suoi elementi più disturbanti e immediati è il disagio sociale. Le persone affette da schizofrenia non sembrano in grado di decifrare i messaggi sociali, di gestire i rapporti interpersonali o di prevedere i contesti sociali di un incontro. E se spesso le allucinazioni possono essere tenute sotto controllo con i giusti farmaci, questi altri sintomi sono più difficili da gestire. Le ricerche hanno dimostrato che molti schizofrenici soffrono anche di menomazioni olfattive clinicamente importanti, fra cui disfunzione di centri cerebrali come i lobby parietali e la parte del cervello responsabile dell'integrazione dell'output sensoriale che consente di comprendere e contestualizzare i messaggi sociali. Come un odore può sollecitare un'immagine immediata di un dato momento o un dato luogo, la mancanza di tale capacità di associazione può privare un'ancora sociale ed emotiva fondamentale per la vita. Stiamo imparando che oltre al chielo olfatto è una finestra spalancata sulla base inconscia della socievolezza e dell'interesse sociale, continuiamo la spina. E c'è un crescente interesse per questo senso, finora dimenticato, benché l'avessimo sempre sotto il naso. Vedere i concetti La scena si ripete nelle stanze degli ospedali di tutto il mondo. Migliaia di volte al giorno un padre, una madre o un figlio con danni cerebrali giace a letto, non del tutto incosciente, non in coma, nello stato che i medici definiscono di coscienza minima. A volte questi pazienti sono in grado di mormorare il nome di un oggetto o di eseguire un semplice comando, ma per i parenti amici non sono più la stessa persona e dato che hanno anche gravi problemi di linguaggio si dà per scontato che non siano in grado di eseguire una conversazione. Ma in un sorprendente studio recentemente pubblicato sulla rivista Neurology, i ricercatori hanno utilizzato le immagini ricavate dalla risonanza magnetica per studiare il cervello di due pazienti in stato di coscienza minima e confrontarli con il cervello di sette individui perfettamente sani e l'esame ha rivelato che i pazienti in stato di coscienza minima avevano un'attività cerebrale pari alla metà rispetto al campione di confronto. A tutti i soggetti è stato fatto ascoltare un nastro realizzato da un membro della famiglia o da un amico che raccontava i ricordi più allegri e le esperienze vissute insieme. Un paziente ha ascoltato la sorella che raccontava del suo matrimonio e del brindisi che avevano fatto insieme. Il risultato è stato sorprendente. Tutti i soggetti hanno mostrato un'analoga attività cerebrale, alcuni con l'attivazione di accorteccia visiva. Questo dimostra che esiste una vita della mente che va al di là dell'apparenza, spiega Joseph Finn, responsabile della divisione di etica medica del New York Presbyterian Hospital, Well Cornell Medical Center. Muffins, che non ha partecipato a questo studio, sottolinea l'emergere anche di questioni di carattere filosofico. Questo significa forse che hanno visto delle parole, che hanno visualizzato dei concetti semantici. Questo episodio in qualche modo concettualizza la coscienza. Come tiene a precisare Zaltman, il linguaggio è solo la rappresentazione più ristretta dei nostri pensieri. Ripeto per chi ha seguito i dibattiti di stregoneria, il linguaggio è solo la rappresentazione più ristretta dei nostri pensieri. Questo studio mostra che il funzionamento del nostro cervello, anche quando è danneggiato, corrisponde perfettamente a quella teoria. Nonostante l'evidenza delle prove che nella vita di tutti i giorni l'inconscio sia la componente prevalente delle nostre scelte, anche un fervente sostenitore delle neuroscienze come Zaltman invita comunque alla cautela. Credo che non sappiamo ancora quanto la mente agisca per ragioni puramente razionali o per ragioni inconsce mascherate magari da scelte razionali o da pura intuizione. Diciamo che in entrambi i casi la scelta che ne consegue può essere errata, ma anche perfettamente funzionale. Ed è proprio dall'indagine sulla potente tensione fra i due elementi, il mescolarsi di noto e di ignoto, di conscio e inconscio, di quel 5% di consapevolezza e quel 95% dell'attività mentale, sottratta al nostro diretto controllo, che gli scienziati si aspettano le scoperte più importanti. Nel 2005 è stato pubblicato questo articolo dal New World Report e immagini tratti del volume di Anestis Bar edizioni Scalo Zurigo. Allora cosa significa questo? Significa in sostanza che noi abbiamo tutta una parte del cervello che funziona senza che noi ne abbiamo il controllo e la parte del cervello che funziona senza che noi abbiamo il controllo è la parte del cervello che fa funzionare quella parte del cervello di cui noi abbiamo il controllo. Praticamente diciamocelo in soldoni chiaro e tondo noi non abbiamo il controllo di niente. Abbiamo solo una fase di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che intuiamo fin dal primo momento in cui la vita viene concepita e quell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive non è altro il nostro sforzo di adattarci alla vita. Ma noi abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di percepire il mondo. Soltanto che la ragione, l'educazione, il sistema sociale in cui viviamo limitano la nostra capacità di razionalizzare il mondo cioè di agire in base ai fenomeni che dal mondo noi percepiamo e cercano di costringerci un'area sempre più piccola. In realtà tutto ciò che noi pensiamo, tutto ciò che noi desideriamo appartiene a una struttura di condizionamento educazionale infantile che viene ad agire esattamente sui nostri sensi. Avviene ad agire sui nostri sensi e delle immagini vengono a fissarsi. L'idea assurda, l'idea allucinante, l'idea idiota, cioè criminale, quella del Dio padrone che crea l'universo, non è altro che va a incidere, altro che sua stessa area del cervello su cui va a incidere il logo della Coca-Cola per farci avere delle preferenze anziché altre. Per cui l'idea criminale del Dio creatore che crea l'universo non è altro che il logo della Coca-Cola. Cioè le due cose sono uguali perché vanno ad agire sulla stessa area cerebrale che viene fissata a livello infantile e ce lo portiamo avanti per tutta la vita. Pertanto rifletteteci su queste cose. Certo, con la stregoneria noi facciamo muovere le emozioni. Con la stregoneria facciamo un gran ripulista di tutte queste cose perché la stregoneria tende a toccare la parte profonda delle persone. Questo è importante che noi lo sappiamo perché ricordatevi che in ogni momento della nostra vita noi siamo in grado di prendere in mano la nostra stessa vita. Cioè possiamo decidere la direzione in cui modificare la nostra esistenza. Questo è un altro articolo con altre osservazioni scientifiche che dimostrano la realtà della stregoneria. Eliminate il condizionamento educazionale e riuscirete a far venire fuori dal cervello e da tutti i nostri sensi, dalla parte profonda del cervello, tutta l'intuizione che vi serve per vivere. La ragione, quello che voi pensate, non è altro che un riflesso di quelle che sono le condizioni profonde che hanno i singoli individui. E la scienza continuerà a scoprire queste cose. E il problema vero, il problema dello scontro che avverrà in futuro sarà il fatto che alcune persone che analizzano questi fenomeni, questi cambiamenti ne diventeranno i padroni. Cioè noi abbiamo visto il personaggio che deve progettare l'ospedale pediatrico e fa l'analisi delle immagini profonde, quelle che Francesco chiamerebbe gli archetipi e dalle analisi delle immagini profonde costruisce un ospedale pediatrico che sia appetibile per bambini, genitori e personale. Però nello stesso identico modo si può fare anche un ambiente che sia terrificante, che sia allucinante per le persone. Cioè si possono costruire anche degli strumenti di morte. Pertanto, quello che è importante che noi sappiamo è che la scienza dice questo. Cioè la scienza va a verificare la realtà della stregonaria, la realtà della trasformazione. Ma la trasformazione deve partire da noi. Cioè siamo noi che dobbiamo scegliere dove e in che direzione trasformarci. E il croceolo dello stregone va in questa direzione. Cioè il croceolo dello stregone è il compito di fornire alle persone gli strumenti attraverso i quali praticare le trasformazioni. Dopodiché io, come apprendista stregone, non vi posso fare altro. Cioè io vi posso presentare gli strumenti, vi presento la necessità di usare quegli strumenti, vi presento l'urgenza di appropriarvi di quegli strumenti e di farli propri. Ma io mi devo fermare là. Cioè non posso entrare dentro di voi. Cioè non posso dirvi questo è lo strumento giusto, devi usarlo in questo modo, devi fare questo. Io non posso assolutamente fare questo. Se no non avrei costruito la legione pagana politeista. Bene. Riprendiamo un attimino il discorso, visto che abbiamo ancora 20 minuti, sul rito di sabato. Il rito di sabato è il rito del sostizio d'estate. Nel rito del sostizio d'estate c'è un solo inno e ci sono le evocazioni delle potenze del mondo. Visto che ho ancora un po' di minuti voglio un attimino soffermarmi su questo. Le evocazioni delle potenze del mondo. Proviamo un attimino a leggere queste evocazioni. Intanto subito diciamo che si tratta di quattro frammenti degli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici erano dei testi che venivano usati dai neoplatonici e erano molto amati da Procolo, oltretutto questi, e sono rimasti solo alcuni frammenti. Questi frammenti per me sono delle sintesi estremamente potenti e le usiamo come invocazioni. Proviamo un attimino a leggerli queste evocazioni. Rivolto al nord, operante, elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate. Sui vincoli riversa, forza di fuoco vivificante, potentissimo. Attenzione, innanzitutto chi è Ecate? Ecate è quel potere che trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ecate è una specie di ostetrica, è pronta a aiutare il corpo luminoso a nascere alla morte del corpo fisico. Pensiamoci a questo prima. Allora, operante, cioè colui che opera, elargisce il fuoco che dona vita. Il fuoco che dona vita è la capacità del soggetto di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E colma il grembo fecondo di Ecate. Perché è un ostetrica, si nasce in Ecate, il corpo luminoso nasce in Ecate. Sui vincoli, riversa, forza di fuoco vivificante, potentissimo. I vincoli, ciò che ci blocca, ciò che ci ferma, ciò che ci impedisce di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, Ecate, riversa, un fuoco di vita potentissimo. E questa è l'evocazione che si rivolge a nord. L'evocazione che si rivolge a est è Di là scaturisce la materia cangiante. Di là, precipitando il fulmine, estenua il fiore del suo fuoco. Gettandosi nelle cavità dei mondi, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso, stupendi. E questa è la descrizione della nascita del sole, del sorgere del sole, che dà la vita a tutti gli esseri del pianeta Terra. Proviamo a vedere l'evocazione del Sud. Per vincolo di amore stupendo, che scaturì per primo dal nus, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, per mescolare i caratteri sorgivi, effondendomi il fiore del suo fuoco. Per vincolo di amore stupendo, questo vincolo di amore stupendo è riferito a Eros primordiale. Eros primordiale, il fanete degli orfici, non è altro che l'intento della vita, l'intento che emerge dall'uovo primordiale. Scaturì per primo dal nus, scaturì per primo dall'intelligenza, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, perché solo l'intento è fuoco e solo manifestando l'intento gli esseri umani diventano fuoco della vita. Per mescolare i caratteri sorgivi effondendovi il fiore del suo fuoco. Ed è l'unione che c'è fra il soggetto e il mondo in cui vive. Proviamo un po' a leggere l'evocazione ad ovesta. L'evocazione ad ovesta è molto semplice e si tratta dell'unione degli elementi. che danno la vita, di fuoco, d'acqua e terra e di ete, che tutto nutre. E queste sono le evocazioni alle potenze. Dopodiché, un'altra cosa che viene fatta è l'inno al fuoco. L'inno al fuoco non è altro che un inno che va a sintetizzare quelli che sono i concetti del paganesimo politeista. Non troverete mai nell'inno al fuoco una supplica. E prima di chiudere la trasmissione, io ve lo leggo tutto. Ogni frase dell'inno al fuoco è un concetto, un concetto filosofico, non è solo un'affermazione religiosa, è anche un concetto, un modo di leggere la realtà in cui viviamo. Inno al fuoco. Io evoco voi, potenze sacre, che nati da Gaia, siete il fondamento dell'esistente della mia esistenza. Voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos, che riempiste di voci il silenzioso erebo, che sorgeste dall'abisso del profondo urano stellato, come dal cuore dell'essere terra, l'immensa rea, dal cuore di fuoco. Voi che siete negli angoli del cielo, come nei meandri delle mie passioni. Voi che abitate le fosche nubi, come le nubi furiose dei miei pensieri. Voi che osservate l'invisibile della mia ragione, mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive. Custodite i miei segreti. Voi che siete i miei segreti. Nel sottoterra, il mio cuore ha lo stesso battito del cuore di rea. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti, che fondate il presente in ogni presente, che servite l'abisso. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti nelle passioni della vita, che mi avete manifestato fondando il mio presente. Che questo fuoco sacro, che abbiamo acceso richiami dei e spiriti, perché noi vogliamo determinare il nostro fatto attraverso il nostro fuoco. Che il legno, come il legno, alimenta questo fuoco sacro, così le nostre predilezioni alimenteranno dentro di noi il fuoco di Eros, che da quando Crono usò la falce dentata, è fuoco d'eternità che divampa in ogni essere, a cui Gaia dette una forma. Per questo, contro ogni dominio, avremo occhi di fuoco. Guarderemo il mondo con gli occhi di fuoco della vita. Ascolteremo con gli occhi di fuoco. Solcheremo i cieli con intento di fuoco. Scuoteremo il cielo invocando gli dèi con passioni di fuoco. Ed è col fuoco che costruiamo le costrizioni, affinché gli dèi siano compagni dei nostri progetti. Col fuoco leghiamo a noi gli dèi. Col fuoco imponiamo ai titani di aprire le porte d'accesso alle strade dell'ampio tartaro, che aurora illumina ed Elio indica. Questo è l'inno al fuoco che reciterò sabato. Ed è stato fatto proprio per il solstizio d'estate. Questo inno al fuoco è stato letto ad Anversa, è stato letto lo scorso anno ad Atene, al Tempio di Atena, e viene usato ormai in molte parti del mondo, perché è stato scaricato dal sito internet in parecchi stati, in parecchi posti. Per cui questo è un inno che nel mondo sta prendendo il posto per fare l'inno al sole, per fare il solstizio d'estate, un po' in tutto il mondo. Per cui ha avuto effettivamente un grosso successo, anche perché ogni frase di questo inno ha la capacità di descrivere un'immagine della vita, e mi sembra che questo sia piuttosto importante. Bene, io posso soltanto darvi appuntamento per sabato 18 giugno, diciamo così, nel pomeriggio. Il rito inizierà un'ora prima del tramonto, per cui cercate di essere il più puntuali possibile. e le persone sanno come fare per arrivare, con chi contattare, contatti telefonici. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, abito in piazzale Parmesano Otto Marghera, e chiunque mi può telefonare per mettersi d'accordo. È già annunciata la presenza di varie persone, sembra che ce ne siano molte di più che negli altri anni, staremo a vedere se poi tutte queste persone che hanno annunciato di esserci ci saranno. Però penso che il parcheggio auto che ha a disposizione l'amico di Jesolo sia sufficiente per attenere tutti quelli che arriveranno. E se no, troveremo altri parcheggi, non c'è problemi. Vi ricordo sempre che il Bosco Sacro di Jesolo è un luogo di culto della regione pagana politeista. Regione pagana politeista che è legata al gruppo internazionale del FUCER, che è il World Congress Ethnic Religions, cioè il congresso mondiale delle regioni etniche, e che ormai ha appena tenuto il congresso ad anversa e sta tenendo tutta una serie di iniziative per far riconoscere quelle che sono le religioni nazionali o comunque il modo di essere pagano, farlo riconoscere a tutti gli stati e farlo accettare come realtà di fatto, perché questo è importante. Bene, io in questo momento avrei finito tutto quello che avevo da dire. Vi ricordo che dopo il larito faremo praticamente un piccanic là sul posto, là vicino, chi vuole portare qualcosa lo porta, insomma senza portare grandi quantità di cose che sarebbero abbandonate, cioè è inutile fare come gli altri anni dove partecipano un X persone e ogni persona si riteneva in dovere di portare per tutti, anche se l'X persone andavano moltiplicato al quadrato rimanevano quintali di roba, insomma, non ha senso portare delle cose, portare quelle che piacciono essenzialmente. Bene, io qui ho qualche notizia stampa fin intanto per concludere la trasmissione, intanto che do il via alle telefonate. Vi ricordo il telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Notizie stampa, ce ne sono un pochino ultimamente, ma penso che le notizie più grosse siano sempre le solite. Pronto? Penso che siano sempre le solite, cioè l'attività di pederastia della Chiesa Cattolica. Purtroppo è una cosa talmente pesante, talmente grossa, che si fa fatica a fingere di dimenticarla. Pronto? Vedete, è divertentissima questa cosa, ma succede abbastanza normalmente. Vi voglio parlare invece di una sentenza della Corte di Cassazione, che dice che è un reato umiliare i figli per cercare di educarli. C'era già stata una sentenza alcun tempo fa, un padre condannato perché costringeva i figli a pregare in maniera ossessiva, chiaramente aveva superato quelli che sono i limiti dell'ecito. Ma è un po' il leitmotiv che sta avvenendo in questo momento, cioè il motivo ricorrente che avviene in questo momento. Cioè da un lato ci sono i cattolici che vogliono affermare il loro diritto a stuprare bambini. Stuprare bambini per un cristiano significa avere la libertà religiosa, cioè per un cristiano la libertà religiosa significa stuprare bambini. Dall'altro lato invece abbiamo la Corte Civile, le Corte di Cassazione, che stanno tentando di modificare quelli che sono i comportamenti, quelli che sono i comportamenti normali delle persone in modo di rendere la società il più civile possibile, più vicino a quelli che sono i doveri costituzionali. Purtroppo questo scontro continua ad essere, è uno scontro sempre in atto. Da un lato una società civile e dall'altro lato quello che invece è il terrore cattolico. Purtroppo di questo faremo fatica a liberarci. Faremo fatica a liberarci perché? Perché il cattolicesimo sta tentando di appropriarsi di quello che è la società civile e sta tentando anche di fingere che le sue colpe non esistono. Io qui ho un articolo che è del 5 luglio 2005 ed è della Repubblica e dice Cantacchi, 120 milioni di dollari alle vittime, USA, preti pedofili, risarcimento record. E sarebbe il terzo risarcimento, uno abbiamo avuto di 80 milioni di dollari se non vado a rato, l'altro di 100 milioni di dollari e un altro di 120. Vado a memoria, questo è di 120. La Chiesa Cattolica ha istituito un fondo di 120 milioni di dollari per risarcire le vittime degli abusi sessuali commessi dai preti nei Cantacchi. La somma è stata messa a disposizione dal Monsignor Roger Foyce per concludere le azioni giudiziarie contro la diocesi di Convington. Se il giudice approverà, l'accordo extra giudiziale tra il vescovo e l'avvocato delle vittime si tratterà dell'indennizzo più alto riservato alle vittime dei preti pedofili negli Stati Uniti. Il denaro proverà dalla vendita di proprietà immobiliari ecclesiastiche da fondi di investimento delle società assicurative. Almeno, attenzione, almeno 30 preti su 372 nel Cantacchi hanno commesso violenze sessuali su minori. Cioè quasi il 10% di preti nel Cantacchi hanno fatto abusi sessuali sui minori. È come se in Italia 5.700.000 persone avessero fatto dei reati o degli abusi sessuali. Tanto per avere le proporzioni su cosa significa 30 preti su 370. Bene, questo costa alla Chiesa Cattolica 120 milioni di dollari. Io mi chiedo, perché dovete firmare e dare l'otto per mille alla Chiesa Cattolica quando la Chiesa Cattolica fa questo? Davvero siete d'accordo con la Chiesa Cattolica nel stuprare i bambini? Quindi, chiunque firma l'otto per mille per la Chiesa Cattolica è d'accordo che la Chiesa Cattolica stupra i bambini e va chiamato criminale e stupratore di bambini per il principio di partecipazione morale che è insito nella nostra legge. Fate un po' voi, firmate per la Chiesa Cattolica e siete degli stupratori di bambini. Scegliete voi. Io invito a firmare l'otto per mille per lo Stato. Poi, ognuno se la vede con la propria coscienza. D'altronde, il logo della Coca-Cola ve l'hanno messo in testa. Il logo della Coca-Cola è l'idea del Dio Padrone e con quello vi misurate. Ciao a tutti, chiudo qui a tre missioni di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao!